Si rinnova l'appuntamento con il grande calcio qui su EA Sports, oggi in programma un'altra sfida davvero interessante. Un saluto da Piero Cipardo e Daniele Adani. Torna il grande show della Serie A team su queste frequenze. Ecco la formazione della squadra di casa. Sceldi fra i pali, Rabiot insieme a Zakaria sulla linea dei centrocampisti. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. Questo è l'undici della squadra ospite. Stracoscia per la porta. In difesa Cervi con Patrick. Milinkovic-Savic insieme a Luis Alberto al centro. E Cilo Immobile schierato come unica punta. Ci siamo, possiamo cominciare. Luca Pellegrini Ecco Rabiot Di Bala Rabiot Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Paolo Di Bala è sicuramente una delle stelle più attese di questo match. Vedremo cosa ci regalerà. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bombe di razza di sapere sempre un attimo prima dove finirà la palla e poi si fanno trovare al posto giusto al momento giusto. Non va De Sciglio Ecco Rabiot Si fa largo della trequarte avversaria Commettera da lì 1-0 Partenza lanciata per loro Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. Ebbene non ha coperto bene il proprio palo La palla si è infelata proprio lì Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Felipe Anderson Lazzari Patrick Tocco per Felipe Anderson Provano a aprire la scatola difensiva avversaria Buona chiusura sul tocco profondo C'è la possibilità della ripartenza Rabiot Rabiot Patrick Occhio a Milinkovic Savic Manuel Lazzari Occhio a Immobile Non bene qui Immobile Che perde palla Morata Stanno vincendo Fittarete i passaggi Non hanno ovviamente molta fretta Quadrado Occhio a Di Bala Buona rinquinzione qui Merinkovic Savic Quadrado Viene avanti palla al piede Azione che non va a buon fine Merito soprattutto della difesa Lucas Leina Occhio a Immobile L'avanzata a Immobile Felipe Anderson Tegola efficace Ma concede l'angolo La tocca al compagno Kesley ma attenzione Palla ancora viva Intervento decisivo Che salva la porta Recuperano bene palla Azione che si fa interessante Può passarla Hanno il pallone Che può valere la parità Attenzione La mette dentro E adesso è tutto in parità In gol ha l'apparenza facile Non poteva sbagliare da quella distanza Ha mantenuto la calma E non ha lasciato scampo al portiere Siamo di nuovo in parità Grazie al gol dell'1-1 Paolo Di Bala Tocco per Chiellini Ecco Zaccaria Avanza palla al piede Manuel Lazzari Patrick Luis Alberto Prosegue spedito ancora Immobile Immobile Palla che rotola via Melinkovic-Savic Palla interessante per Felipe Anderson Entra sul pallone Spenta il pericolo E l'arbitro dice che può bastare Dopo i primi 45 Parità 1-1 Primo tempo incoraggiante Il suo giocato su livelli interessanti Ha offerto un contributo importante alla causa Firmando il gol del pareggio Con cui si sono chiusi i primi 45 minuti E sicuramente tra i più in forma dei suoi Comincia ora il secondo tempo Luca Sleiva Luca Sleiva Luis Alberto Tocco per Luca Sleiva Luca Sleiva Occhio immobile Tecco l'efficace qui Zaccaria Di Bana Non buttano via il pallone Preferiscono aspettare il momento giusto Di Bana Bravo qui il difensore Ha sventato una potenziale azione pericolosa Lucas Sleiva Lucas Sleiva La legge bene Rabiot Cercano di rendersi minacciosi Nell'area avversaria Provo a calciare Palo e gol Conclusione che terminate in rete Dopo aver baciato la faccia interna del palo Lo possiamo vedere da questo replay Il punteggio adesso è di 2 a 1 Ecco Mirinković Savic Occhio a Mirinković Savic Patrick Occhio a Luis Alberto Si mette bene sulla traiettoria qui Occhio al contrapiede qui Azione che sfuma Ottima lettura difensiva Felipe Anderson Manuel Lazzari Tocco per Luca Sleiva Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni Come dimostrano le percentuali sul possesso palla Stanno cercando il dominio del gioco Ma la palla viaggia troppo lentamente Rimangono troppo prevedibili E infatti la difesa avversaria Ha tutto il tempo per sistemarsi E così non si entra in area Se la partita rimane così L'unica possibilità per riaprire il match È la conclusione della distanza Intentativo di Pressing qui Si fanno portare via la palla Occhio tenta la verticalizzazione Buona idea Azione interrotta molto bene qui Morata Occhio a Morata Perdono palla Felipe Anderson Lazzari Pallone per Luca Sleiva Luca Sleiva È in buona posizione Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo Di bala Morata Pallone gestito male Luis Alberto Immobile Può far male da lì Decisivo qui il tackle Ecco Zaccaria Serve Morata Nuovo possesso per loro Luca Sleiva Cerca il filtrante alto E comincia un'altra azione importante A caccia del pari Il portiere Più lontano che può Proseguono nell'avanzata Velikovic-Savic Luis Alberto Perdono il possesso del pallone Di bala Tocco per quadrato Zaccaria Ancora 300 secondi Alla fine della gara Di bala Rabiot Di bala Ottima lettura Melikovic-Savic Tocco per Felipe Anderson Capisce tutto Intercetta il passaggio Si andrà avanti Ancora per un minuto Zaccaria Capisce tutto E ferma l'azione Ecco il triplice fischio Vittoria E punti preziosi Per la formazione di casa Tre punti fondamentali Per la classifica E il morale Queste sono le partite Più difficili Ed era importante Portarla a casa Missione compiuta Grazie a tutti Un'impeuta I'impeuta 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 Grazie.